ciao amici come state io bene dai anche se diciamo ultimamente un periodo un po un po brutto un po negativo per tante cose totale avete visto sui social su facebook e instagram lo sto qui a spiegare perchè diciamo che mi sto tra virgolette un po riprendendo quindi non non voglio parlare di quelle cose per quanto riguarda questa gara che tutti sui social hanno detto la peggior qualifica la peggior qualifica scusate il telefono oh ciao vale eh davvero no e non lo so io quando posso andare per ora per questa pandemia ora la sardegna è anche zona se non erro zona arancione quindi non non lo so quindi spero presto eh davvero dai la sera mal che vada e mal che vada no niente è una cavolata sto dicendo perchè non per questa madre mia non possiamo andare dalla sua parte nemmeno andare al bar a berci una verra eh no no te lo pare io quando quando decido di andare a Tavulia perché c'era presente quella cosa che ho in mente già te l'avevo detto eh eh sì esatto quello e quindi niente io quando ho in mente io ti chiamo e ti faccio sapere ok eh no dai no vabbè dai eh no no sì dai tutto sommato sto bene dai diciamo che mi sto riprendendo ora sto facendo anche un video quindi sei in diretta nel video no tranquillo no 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 cioè lo posso mettere non metto la via voce non metto niente metto solo io che sto parlando quando lo posso mettere no 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 prometto. Cioè, torno a me come saranno contenti quelli del canale. Eh, no, sì, la tuta è ancora qui, ce l'ho sempre. Eh, nel manichino, ok? Come? Sì, mi avrei regalato solo la tuta. No, 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 quanti stivaletti, no, hai fermato con la zappanetta? No, non ci credo, davvero? No, ancora non mi è arrivato. E cos'hai? Ah, vabbè, dai. Eh, non l'ho capito. Dai, ora siamo in diretta e mi sta scaricando anche la batteria della GoPro. Eh, ok, dai, ci sentiamo. Magari ci sentiamo tramite un messaggio o pratichiamo dopo. Eh, ok, ciao, vale. Ciao, ciao, ciao. Saluto me fra Max Avuccio. Ok, eh, ok, dai, ciao, ciao, ciao. Ok, lo staccola il video, ok. Quindi iscrivetevi al canale. Ok, ciao, ciao, ciao. Grazie. Grazie.